Musica 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 Allara vuol dire caro mio signorino che lei non ha coraggio di dire chiare le sue ragioni no 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 lei vuole prendere in giro una ragazza con dei regali costosi per dirvi che poco onesti vero lei vuole prendere in giro una ragazza che le vuole bene ma non ci viene buona vederla spagrire giorno dopo giorno no vero lei la vuole far innamorare e poi abbandonarla così nel dolore in totale vero? no me alla carlena ai voi va e alla voi scusate no 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 a te mosh hai da dentro e allora scusiamoci e allora c'è anche un pezzo di musica un pezzo di musica un pezzo di musica eccoci Tom ti compro per andare fuori la mia volta eh ma cercherai Tom eh un pezzo di musica un pezzo di musica tutto il pezzo di musica ...... poi Queens Grazie a tutti